Qui Questa è famosissima, questa si è vista Sì, questa qui si è vista e si chiama S-Espresso Funziona, diciamo, quasi normalmente come una macchina del caffè Questa è la nostra tanichetta di acqua che abbiamo sulla macchinetta espressa normale Ok Chiudiamo la macchinetta, inseriamo la capsula all'interno E a questo punto chiudiamo E il gioco è fatto L'acqua viene aspirata all'interno E poi deve andare all'interno di quello che è un riscaldatore Perché nello spazio, nel caso in cui andasse in ebollizione l'acqua Non funziona come qui sulla Terra Succede un disastro Succede un disastro Quindi controlliamo che l'acqua sia alla giusta temperatura E poi a quel punto comincia l'infusione del caffè normalmente Che uscirà a 75 gradi Ed eccoti il caffè d'astronauta che viene inserito all'interno di questo Noi lo chiamiamo pouch e un sacchettino Meraviglioso, meraviglioso